Per la prima volta dal 1948 nessun parlamentare eletto abita nella nostra provincia. L'unica nativa è Maria Elena Boschi che però alla Camera è entrata grazie ai voti del proporzionale plurinominale in un collegio del Sud. Per lei che ora ha la residenza nella capitale un vero primato visto che cinque anni fa venne eletta nel Sud Tirolo, tra l'altro nella zona dove gli italiani sono in netta minoranza. Tiziana Nisini ha cambiato casa, dal Senato è passata alla Camera dove si è imposta nel collegio uninominale di Arezzo Emozionata. Ha votato ed è rimasta in attesa di sapere se il candidato leghista avessero aggiunto l'agognato quorum. Un'altra retina d'adozione è la neodeputata di Fratelli d'Italia Letizia Giorgiani, eletta al Sud che ha fatto il suo esordio nei banchi della Camera. Anche la Giorgiani è un primato visto che abita in Umbria sulle colline del Trasimeno ma frequenta stabilmente la Valdichiana Senese, il sindaco di Chianciano e il suo compagno e passa per la retina visto che è stata l'appasionaria della battaglia contro il crack delle banche. Si aprono scommesse sul primo duello con Maria Elena Boschi. Le vecchie ruggine delle banche non sono certo passate in secondo piano.